Il giorno dopo la vittoria del centro-sinistra, ni soli due comuni andati al ballottaggio nel veneziano, Spinea e Noale. Per Silvano Chechina Spinea si è trattato di una riconferma, la spuntata su Claudio Tessari, che ci aveva provato dopo un'esperienza nel Consiglio Provinciale Veneziano. Il centro-sinistra ha stravinto con il 65,16% dei voti, quasi il 35% invece è stato raccolto dal centro-destra. A Noale ridotto lo scarto tra il sindaco uscente Michele Celeghin, che ha ottenuto il 43,21% dei voti, e Patrizia Andreotti, la nuova sindaca, con il 56,49%. Va detto però che a recarsi alle urne, complice anche la bellissima giornata di sole e la tentazione offerta dalle spiagge, si sono recati in pochi, i più intimi dei candidati. Ora si aprirà il capitolo giunta per entrambi i primi cittadini e potranno pescare su consigli comunali decisamente rinnovati. A Spinea, per la prima volta, ci saranno soltanto 16 consiglieri per effetto dei tagli e per la prima volta ci saranno tre esponenti del Movimento 5 Stelle, mentre Tessari farà l'opposizione di centro-destra con due colleghi. A Noale, l'ex sindaco potrà contare per l'opposizione sull'appoggio di altri tre consiglieri e poi c'è un esponente della Lega Nord e un grillino. La maggioranza è costituita da facce nuove legate ai nuovi schieramenti che hanno appoggiato la Andreotti.